In attesa che l'ultima promossa dalla Lega Pro definisca la propria scelta, va definendosi il mosaico delle panchine in Serie B. Sono nove gli allenatori confermati, dodici quelli nuovi. Il Pescara riparte ovviamente da Zdenek Zeman e la scelta del Boemo lo scorso febbraio dopo l'esonero di Oddo era stata pensata soprattutto in ottica del campionato cadetto, essendo ai tempi piuttosto segnata la retrocessione. Conferme senza titubanze per le neopromosse, vincitrici dei gironi di Lega Pro, che magari sognano il doppio salto di categoria come fatto da Benevento e Spal. La Cremonese riparte da Tiglio Tesser, il Venezia da Super Pippo Inzaghi e il Foggia da Giovannino Stroppa. Altre conferme sono quelle di Andrea Bollini a Salerno e Roberto Venturato che ha portato ai playoff da neopromossa il Cittadella. Premiati per essere entrati in corse e aver tirato fuori le rispettive squadre da situazioni molto difficili, si sono guadagnati così la permanenza Andrea Camplone a Cesena e Walter Novellino ad Avellino. Situazione particolare per Giampaolo Castorina, da allenatore della primavera della Virtus Sentella, è stato promosso in prima squadra tre giornate dalla fine al posto dell'esonerato Roberto Breda e quest'anno dirigerà la compagine Ligure dall'estate. Cambi invece per le squadre che hanno mancato la promozione. Il Frosinone si è affidato a Moreno Longo, reduce dalla brillante salvezza a Vercelli. Lo Spezia riparte dal debuttante in cadetteria Fabio Gallo. Il Bari ha scelto il pescarese Fabio Grosso in uscita dalla primavera della Juventus. Mancano le firme, ma in sostanza definiti gli allenatori di due squadre eliminate dai playoff. Dopo esserne stato un giocatore di riferimento, ora c'è Federico Giunti nel futuro della panchina perugina. Pesca dalla Lega Pro anche il Carpi, che per il dopo Castori si affida ad Antonio Calabro. Il Novara invece ripartirà da un tecnico abbastanza esperto come Eugenio Corini, mentre Roberto Boscaglia, dopo aver lasciato proprio la panchina dei piemontesi, torna a Brescia, dove aveva fatto discretamente bene due anni fa. Ascoli e Provercelli tenteranno la via della salvezza con due debuttanti. Uno assoluto, Enzo Malesca, che alcuni mesi fa ha appeso gli scarpini al chiodo ed ora guiderà i bianconeri marchigiani. In attesa del patentino, l'allenatore sarà comunque Fulvio Fiorin. A Vercelli spazio a Gianluca Grassadogna, che ha comunque una lunga carriera sulle panchine di Lega Pro. Fabio Grosso e Andrea Camplone non saranno gli unici abruzzesi in panchina. Manca solo l'ufficialità, ma è praticamente fatta per Vincenzo Vivarini alla guida del retrocesso Empoli. Massimo Oddo potrebbe essere il neotecnico di un'altra retrocessa. Il Palermo dipenderà dal positivo epilogo del closing Baccalini-Zamparini. A Terni si andrà in porto la trattativa tra la società neroverde e l'unico usano. L'allenatore sarà Pokesci. Grazie.